Grande successo per la prima edizione del treno della Magna Grecia, itinerario del Bergamotto da Catanzaro Lido a Brancaleone, lungo la prima linea ferroviaria che nel 1875 iniziò a servire la Calabria. Affacciata sul Mar Ionio, l'evento, il primo a tema turismo ferroviario lungo la linea ionica, è stato organizzato dall'Associazione Ferrovie in Calabria con il patrocinio della Fondazione Ferrovie Italiane e la Regione Calabria ed è frutto di un proficuo accordo tra l'Associazione e la Divisione Business Regionale Calabria di Trenitalia. L'obiettivo è quello di valorizzare il territorio attraverso l'utilizzo del trasporto ferroviario regionale per finalità turistiche, gettando inoltre le basi per la salvaguardia di alcune automotrici diesel di costruzione Fiat che al termine dei propri servizi commerciali entro il 2024 potranno essere utilizzate come materiale rotabile storico previo ripristino delle condizioni estetiche originarie. Le viste culturali che si sono svolte nella cittadina ionica di Brancaleone sono state organizzate in collaborazione con la Proloco di Brancaleone che ha accompagnato i viaggiatori attraverso gli itinerari di Brancaleone Vetus, il primo centro abitato abbandonato a seguito dell'alluvione del 1953. I percorsi di Cesare Pavese, scrittore che nel 1935 trascorse otto mesi di confino in questa località e poi il centro di recupero delle tartarughe marine posto nel fabbricato viaggiatori della stazione ferroviaria senza dimenticare il re del territorio, ovvero il bergamotto, agrume che viene prodotto in una ristretta fascia del territorio della Locride ed in particolare proprio a Brancaleone. E' stato infatti possibile degustare i prodotti agroalimentari del territorio prima di ripartire il treno verso Catanzaro Lido ammirando la bellezza della costa ionica dai finestini ancora abbassati del convoglio. Mentre sono allo studio nuovi itinerari, il prossimo evento aperto al pubblico sulla relazione Catanzaro Lido-Brancaleone si darà sabato 11 giugno, mentre ulteriori tre iniziative analoghe si svolgeranno il 24 maggio, il primo giugno e il 10 giugno dedicate in questo caso a scolaresche. Nel complesso in due sole settimane raggiungeranno Brancaleone in treno quasi 400 visitatori, numeri che da soli esprimono il successo senza precedenti all'iniziativa. Ovviamente è tutto illustrato anche sul portale www.ferroviadallemeraviglie.it